Importante vittoria in trasferta della Tlatica Truria che quest'oggi coglie tre punti importanti su un campo difficile in una trasferta lontana come quella di oggi. Il primo tempo si apriva con una punizione di Falciani al quarto che veniva deviata sul palo di testa dall'attaccante di casa, poi al nono sullo sviluppo di un'altra punizione era sempre Falciani a mandare alto di testa. Gli ospiti sfacevano vedere al diciassettesimo quando Bonini passava a Verola il cui tiro veniva respinto dal portiere e Tacchetto ne approfittava segnando la rete dell'1-0. Al ventitreesimo Ferrari rubava palla a Mazzucca che calciava alto. Al trentanomesimo ancora Tacchetto che su punizione sul sette raddoppiava per l'Atletico Truria. Reagiva l'alta Maremma che allo scadere al quarantacinquesimo con Falciani si rendeva pericolosa, ridirbando tre giocatori e presentandosi in aria veniva fermato in extremis dal Rossi. La ripresa iniziava subito forte per l'Atletico Truria che dopo venti secondi con Tacchetto rubava palla al difessore e metteva in aria dove Verola appoggiava Bonini che però mandava fuori. Al terzo Mazzucca imbeccava Tacchetto che metteva sul secondo palo per Bonini il quale faceva sponda di testa per Verola che mandava fuori. Ancora agli ospiti al dodicesimo con il sempre presente Tacchetto che su punizione da destra metteva in movimento Bonini che di testa impegnava Bigoni che parava in angolo. Il terzo gol per l'Atletico Truria arrivava al diciottesimo con Bonini che con una punizione dal limite segnava sul primo palo. Unica azione importante per i padroni di casa al ventesimo con una punizione di Ferrari che metteva al centro per Falciani il quale mandava alto. Sempre gli ospiti si facevano pericolosi al ventitreesimo quando Tacchetto su angolo di Nastasi calciava a vola a lato. Pochi minuti dopo al ventottesimo Verola sulla sponda di Rossi si faceva parare del tiro. Ultima emozione e ultima rete della gara al trentaquattresimo con Rossi che recuperava palla in area e inzaccava in diagonale. In definitiva tre punti pesanti che servivano ai ragazzi di mister Chelotti per smuovere la classifica dopo l'ultima sconfitta casalinga.